Psicosi e ebola all'ospedale Cardarelli di Napoli. Personale medico e sanitario in allarme ieri nell'ospedale napoletano per il ricovero di una paziente con febbre alta e sangue dal naso. Si tratta del secondo falso allarme a Napoli nell'arco di due settimane. Nel primo pomeriggio era arrivata al pronto soccorso una donna di 53 anni con febbre alta e difficoltà respiratorie. La signora ha riferito ai sanitari di essere stata nei giorni precedenti a Parigi dove per motivi di lavoro aveva avuto contatti con cittadini africani. Le procedure di emergenza sono scattate e hanno interessato due reparti. Il personale ha indossato mascherine e guanti, la donna è stata isolata in una stanza della medicheria chirurgica a Tigua al pronto soccorso, poi il trasferimento all'ospedale per malattie infettive Cotugno dove è stato escluso il virus dell'ebola. L'allarme, seppur ingiustificato, ha portato le nostre telecamere all'interno del pronto soccorso proprio fuori la stanza dove era ricoverata la donna. Come si vede dalle immagini, l'ingresso del pronto soccorso è rimasto aperto al pubblico a indossare le mascherine, solo il personale medico e infermieristico, ma non tutti e alcune guardie giurate. Nessun isolamento, i pazienti a conoscenza dell'allarme sono rimasti all'interno e nessuno ha provveduto al precauzionale sgombero del reparto.